aboliamo la national league aboliamola perché non serve a niente non serve a niente ci ferma un campionato senza motivo allora ragazzi buongiorno a tutti buona settimana e allora prima di iniziare volevo dirvi che alle 10 e mezzo sarò ho messo anche il post sulla community alle 10 e mezzo sarò ospite sul canale di pietro pani e parleremo da mezzoletta così se nel caso lui poi pubblicherà il video dopo se volete vedervelo sul canale di pietro pani ve lo vedete così parliamo un poco l'italia e di lecce e vediamo che è successo nell'ultima giornata allora prima di iniziare volevo parlarvi di due cose voglio mettere dall'inizio perché poi sul lecce voglio fare un discorso un po più più serio più serio perché poi escono notizie diciamo oggi molti siti riportano cose che io ho detto tutta la settimana scorsa la settimana prima quindi come vedete cioè non sono pazzo quando dico alcune cose ma mo le smoccioliamo tutte allora comincio da ieri a un certo punto mentre guardavo Lazio e Empoli inquadravano Baroni inquadravano D'Averza inquadravano Baroni inquadravano D'Averza e poi a un certo punto ho detto no gli ultimi due allenatori del lecce cioè prima non me ne avevo reso conto e comunque la sfida la vince Baroni però D'Averza ha fatto la sua bella figura e andare a Roma e rischiare di di vincere e poi sul 2 a 1 rischiare di paleggiare perché comunque l'Empoli gioca a pallone gioca al calcio ma D'Averza lo conosciamo tutti io a D'Averza non li cioè io non ho mai accusato D'Averza di avere un brutto gioco di avere mai io ho sempre detto D'Averza a un certo punto quando le cose sono andate male non ne stava capendo più niente cioè proprio non riusciva a cambiare o si rifiutava di cambiare io non lo so però comunque andavamo sempre peggio fino a quando non siamo arrivati a quella partita lecce verona che lì sono usciti tutti i limiti del lecce ma non perché il lecce non giocasse anzi il lecce all'inizio campionato giocava e giocava pure bene poi nelle difficoltà non ha saputo mettere la mano mentre ho sempre detto di Baroni a Baroni dateli una squadra guardatevi una squadra su cui lavorare certo la squadra deve essere proporzionata agli obiettivi però ricordatevi che Baroni a lecce il primo anno di Serie A eh parlo perché in Serie B eravamo fortissimi il primo anno di Serie A avevamo dato una squadra in mano che se ci pensate oggi a quella squadra lì è vero c'era un TD però un TD a quale giornata ha fatto gli soldi abbiamo iniziato senza difensori mi ricordo lecce Inter che non c'eravamo difensori che giocò Blen in difesa e Baschirotto che noi tutti pensavamo fosse un terzino destro anzi lui pure pensava di essere un terzino destro e lo mise lì come diciamo emergenza no? quindi capite che squadra avevamo noi con il primo anno di Serie A con Baroni però Baroni ha raggiunto l'obiettivo Baroni allo Lazio a Verona gli hanno dato la squadra a gennaio gli hanno venduto tutti gli hanno preso altri calciatori sconosciuti ha raggiunto l'obiettivo a Roma in questo momento lui sta andando di pari passo con l'obiettivo che la società gli ha dato cioè capite? noi abbiamo avuto signori allenatori io di Traversa l'unica cosa che riempito è quella e lo accuso di non aver saputo gestire la situazione quando la situazione stava diciamo diventando insostenibile lì doveva cambiare e non l'ho fatto Padalino leggo di Padalino a Lecce sono stato mandato via da secondo in classifica sì in Serie C Padalino in Serie C da secondo in classifica in Serie C il Lecce se la doveva mangiare la Serie C se la doveva mangiare stai zitto Padalino stai zitto che a Lecce ha fatto una brutta figura davvero allora oggi leggo Rebic è stato preso per fare il centro avanti per fare l'attaccante non per fare l'esterno ehi ragazzi vedete poi escono questi articoli che danno conferma che confermano le mie convinzioni ma Rebic potrebbe anche farlo il laterale cioè potrebbe poteva fare il laterale prima quando era più giovane quando aveva più corsa oggi non lo può fare più non lo può fare più perché oggi Rebic non può seguire l'amversario dietro non può partire da quasi lontano c'è la porta c'era troppo lontano Rebic deve fare la seconda punta dobbiamo metterci in testa da versano Gotti e per me Gotti non è in discussione perché ieri sentivo che molti dicevano Gotti se ne deve andare Gotti è uno che deve capire però deve capire che non si può essere sempre così no? i palaocchi quello è il modulo e quello abbiamo un capitale abbiamo un capitale capitale per dire abbiamo a disposizione un Rebic che da seconda punta potrebbe davvero fare male alle difese avversarie e nello stesso tempo potrebbe aiutare Kristović cioè Kristović farebbe molto meglio con Rebic accanto che se già l'anno scorso con piccoli Rebic è stato davvero molto pericoloso è stato il momento migliore di Rebic di Kristović quando è stato quando è arrivato Gotti che ha messo piccoli davanti e a fianco a lui quello è stato il suo momento migliore dico non si può cambiare questo modo giocare con il 4-4-2 rimettere Dorgu a sinistra allora si Dorgu lì può tornare indietro può andare avanti e indietro un ragazzino ma Rebic non può fare l'esterno a sinistra non lo può fare perché poi se tu gli chiedi a Rebic di fare anche il difensore quando perdiamo palla e allora capire che cade tutto il castello tutto cioè nel senso che non è possibile non è possibile Rebic o lo metti davanti se no lì non serve è come avere un uomo in meno perché si ti fa la giocata te ne fa due a partita perché comunque la classe ce l'ha ma basta e poi cioè noi abbiamo preso Rebic per farci fare due giocate a partita no no allora facciamo in tempo siamo ancora all'ottava partita dobbiamo mettiamo Rebic davanti davanti dobbiamo Rebic deve giocare accanto a Kristovic lì poi diventiamo pericolosi diventiamo forti e e poi c'è il problema Ramadani che sta diventando davvero un problema Ramadani io e infatti pure quello sta scritto oggi perché poi dopo quella sfuriata quando c'è stato il cambio e che l'ha presa un po' così da allora abbiamo perso le braccia di Ramadani io però ecco se Ramadani è un problema diciamo è un problema oggi però si può tranquillamente e risolvere anzi lo può risolvere lui stesso da solo il problema dell'attacco è un problema serio è un problema serio in attacco non siamo pericolosi in attacco creiamo poco facciamo tanto gioco come abbiamo fatto anche nell'ultima partita no? la prima mezz'ora il padrone ce l'avevamo sempre noi appena perdevamo il padrone subito fumma e lo recuperavamo però poi non ci avviciniamo alla porta non non siamo pericolosi con Rebic vicino alla porta faremmo butteremmo fuoco quello sufficiente abbiamo Rebic sfruttiamo Rebic sfruttiamolo perché io Rebic non so se l'anno prossimo sarà ancora a Lecce anzi non penso io penso che mi farà un anno sfruttiamolo sfruttiamolo perché poi piangiamo l'anno prossimo diciamo come? avevamo Rebic e non lo abbiamo sfruttato per come dovevamo sfruttarlo?